Ok, Manfredonia 1, Monopoli 0, palla dentro, Di Nigro, ma la palla adesso fuoriesce, poi c'è un sinistro e guarda che fallaccio che ha fatto il numero 3, Esposito davanti all'arbitro, su di Donato gli ha tirato una gomitata dopo che ha esposo il tiro, ma c'è Ciotti nell'era di rigore avversaria la palla perde, Riccobono, il sole gol per la rigola mezza, miracolo, il Cecere a terra con un intervento miracoloso, il portiere Cecere sul diagonale di Riccobono Dio, palla la palla, la palla entrare